Ancora una volta i militari del nono reggimento alpini dell'Aquila, protagonisti in positivo a Roma durante il servizio Strade Sicure. Questa volta l'intervento degli alpini è stato determinante nella stazione Termini della Capitale, dove è scattata l'allerta a seguito di un'aggressione ad un vigilantes da parte di un cittadino ganese, sprovvisto del titolo di viaggio. La guardia giurata era stata chiamata dal personale dell'Atac per identificare e multare lo straniero, che però ha tentato tutti i modi di fuggire durante la colutazione e addirittura ha tentato di rubare la pistola al vigilantes. I soldati, guidati dal generale Paolo Raudino, sono riusciti tramite un metodo di combattimento militare a bloccare l'uomo e a consegnarlo alle forze dell'ordine. L'esercito, come è noto, è impegnato sul territorio nazionale con l'operazione Strade Sicure, che ad oggi è l'impegno più oneroso della Forza Armata in termini di uomini, mezzi e materiali. L'operazione è condotta dall'esercito ininterrottamente dal 4 agosto del 2008 per specifiche esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti un bisogno maggiore di sicurezza e di controllo del territorio. I militari impiegati stanno dimostrando capacità e competenze laddove impegnati per i militari del nono reggimento alpini dell'Aquila, comandati dal colonnello Marco Iovinelli, un altro riconoscimento importante al loro prezioso lavoro e alla loro preparazione.